buongiorno allora oggi faremo una breve introduzione a dcs digital combat simulator e l'utilizzo di uno dei due aeroplani gratuiti all'interno del simulatore simulatore è gratuito si può scaricare dal sito ufficiale dcs world che basta cercare su google una volta scaricato l'open beta che è la versione che sto utilizzando adesso che è quella più aggiornata ed è quella che consiglio la versione ufficiale semplicemente potremmo lanciarlo e utilizzare uno dei due e di gratuiti all'interno del titolo i due aeri sono il tf 51 la versione non armata del p51 mustang esso 25 che è un bombardiere russo oggi vedremo il tf 51 prima di fare ciò faccio una breve guida alla configurazione di dcs che può essere utile in senso generale quindi una volta nel menu principale qui avremo in alto il nostro login lo stato della connessione in module manager da qui eventualmente potremo controllare i moduli installati e gli lc disponibili e poi qui c'è in alto c'è options che sono le configurazioni generali di dcs mentre per quanto riguarda sul menu a destra ci saranno l'instant action che prevede la possibilità di andare a lanciare le missioni predefinite per il modulo associato per esempio se andiamo a vederle sul tf 51 abbiamo tre tipi di emissioni un flight over tbilisi hot star at batumi e col star start in crimsk per ogni per ogni mappa disponibile chiaramente nella versione gratuita del titolo avremo disponibili soltanto il caucaso ed eventualmente le marianne che io non ho installato perché non sono molto bene ottimizzate poi sia la possibilità di creare delle emissioni ad hoc in modo molto veloci caricare delle emissioni che sono presenti nella memoria campagne o andare direttamente nella sezione multiplayer dove potremo vedere i server in in attivo dopodiché ci sono delle breve missioni di training l'enciclopedia che mostra un po tutti gli oggetti presenti nel simulatore i replay che sono la possibilità di lanciare le track che vengono registrate tutte le volte che vogliamo dopodiché c'è la sezione mission editor e campagne builder che già il titolo il nome spiega a cosa servono andiamo nella configurazione quello che so prendo io chiaramente è una pagina la pagina system che diciamo bilanciata per le mie esigenze le specifiche minime per poter utilizzare dcs se parliamo di un'esperienza offline non sono molto alte saranno sufficienti 16 giga di ram meglio un 32 giga un processore i7 anche non di ultima generazione va sempre bene purché sia un quad core è una scheda video a partire dalla serie mille meglio 3000 attualmente perché con gli ultimi aggiornamenti la tecnologia è diciamo ottimizzata per questo tipo di di schede video a partire da una 1080 meglio una 3380 360 che sia chiaramente se si vuole utilizzare il titolo in modo semplice in hd senza particolari dispositivi per chi volesse provare l'esperienza dei pr chiaramente servono serve una macchina più performante più più ram una scheda video di conseguenza in questa pagina come dicevo abbiamo system attualmente io utilizzo una risoluzione in hd anche se può essere portata in 2k o 4k quello che è con la tecnologia upscaling dcs poi fa una conversione adattiva delle texture dei pixel per quanto riguarda l'upscaling da un 4k a un hd e viceversa in funzione dello schermo che abbiamo nelle impostazioni native e quindi poi resolution copy displays ci mostra in poche parole la risoluzione dei mfd e niente poi abbiamo tutta una serie di valori che possiamo andare a modificare in base alle nostre esigenze con una con un computer le caratteristiche che ho descritto prima si può impostare tranquillamente tutto quanto fra medio e alto poi chiaramente bisogna fare un po di esperimenti lascio questa schermata che può essere utilizzata come riferimento soprattutto la parte sinistra è quella che incide di più sulle prestazioni e sugli fps mentre la parte destra può essere diciamo personalizzata in base alle proprie esigenze niente la parte a destra al centro abbiamo l'anisotropic filtering che va bene lasciare un 16 per in generale queste impostazioni non le toccate rain droplets se non è acceso va acceso perché crea quegli effetti molto carini delle gocce su sui vetto e tutti e tucci e il vsync acceso se vogliamo limitare gli fps a un valore predefinito fatto questo per poter utilizzare il nostro tf 51 sarà necessario andare nella pagina controls e impostare le cose fondamentali che ci servono in alto a sinistra selezioniamo il modulo che andremo utilizzare quindi tf 51 la prima cosa da considera configurare sono sicuramente gli assi perché grazie a quelli possiamo volare ovviamente per poter utilizzare dcs è fondamentale avere un joystick non è possibile utilizzarlo con le freccette intanto meno col mouse quindi è un simulatore ed è pensato per utilizzare dispositivi di controllo di precisione quindi assicuriamoci che il pitch quindi l'asse del pitch sia assegnato all'asse y potremmo fare un test cliccando col destro nella colonna nell'assegnazione corrispondente selezionando tune combo axis vediamo un grafico che ci mostra la curva del pitch in questa pagina non dovremo toccare niente lasciare un dead zone a 0 saturation x e y a 100 e curvatura 0 questo è fondamentale ma vale per tutti i moduli molte persone all'inizio soprattutto rendendosi conto che dcs è piuttosto diverso da fly simulator nel senso che ha una risposta molto gli aeroplani hanno una risposta spesso brusca agli input che diamo con lo stick tendono a modificare soprattutto il valore di curvatura o la dead zone questo è assolutamente sbagliato per il principio per cui nella realtà se non andreste mai per fare un esempio scemo sulla vostra macchina non andreste mai a mettere dei blocchi o una curva di risposta sul volante perché semplicemente volete che il volante sia quello di fabbrica che abbia una risposta pensata a livello di fabbrica per avere le prestazioni richieste di stersata per darci un'idea lo stesso vale per l'acceleratore cioè dovrà essere il vostro piede a dosare la potenza dell'accelerazione di velocità della macchina andare a toccare l'acceleratore della macchina la state taroccando in modo negativo fondamentalmente quello che voglio spiegare è proprio questo cioè non toccate il pitch e non toccate il roll anche se l'aeroplano vi sembrerà nervoso in risposta ai vostri input non è l'aeroplano a essere incontrollabile siete voi che non siete buoni e dovete imparare a usarlo ovviamente questo discorso vale su tutti i tipi di joystick fino a quando il joystick non è rotto o ha dei problemi seri di sfarfallio o dead zone quindi se il joystick funziona bene non avete nessun motivo di toccare il pitch e il roll mentre la cosa diversa per quanto riguarda il rudder cioè l'asse di imbardata questo asse che governa il movimento del timone nell'aeroplano nella realtà è utilizzato con i piedi con la pedaliera per cui cosa succede che chiaramente dovete immaginare che il movimento dei piedi del pilota è diverso da quello della mano la mano è negli esseri umani uno strumento di precisione che in grado di fare micro movimenti i piedi invece no quando utilizziamo i piedi siamo un po più maldestri dobbiamo immaginare che nella realtà il pilota reale quando utilizza la pedaliera comunque deve esercitare una certa forza perché la pedaliera dura ha una risposta proporzionale soprattutto significa che facendo piccoli movimenti non avremo una grande oscillazione del timone mentre per andare a utilizzarlo completamente dovremo spingere completamente il timone quindi il discorso che ho fatto sull'asse del pitch e roll per quanto riguarda il timone è diverso quindi cosa vorremmo vorremmo che con piccoli movimenti avremo una risposta molto blanda con un ampio movimento andremo al picco dell'efficienza del timone di conseguenza l'assegnazione sul rudder questo vale per tutti gli aeroplani deve essere 3 zona 0 saturation x e y a 100 curvature io consiglio un 35 40 in questo modo avremo una curva adesso vado ad utilizzare la pedaliera questo modo io sto usando i piedi e come vedete facendo piccoli movimenti il l'indicatore non si sposta più di tanto e non incide molto su sul sul movimento del timone se invece vado a fondo corsa incide moltissimo ovviamente bisogna considerare che almeno soprattutto negli aerei moderni non si usa per niente il timone mentre su un aereo elica importante perché l'imbardata va continuamente corretta in funzione dell'effetto torcente dell'elica e su questo poi entreremo nello specifico quindi per tf 51 o importante assegnare assicurarsi che siano assegnati correttamente joy y y joy x e rudder se non avete la pedaliera alla torsione del joystick un altro un altro asse importante chiaramente è l'asse della manetta che noi andremo ad assegnare al trotto in questo modo il trotto le proprio la manetta può essere considerato il gas della l'acceleratore dell'automobile in realtà bisogna considerare che nel tf 51 come nella maggior parte degli aerei elica del tempo o su alcuni cesna moderni ci sono due cose sono ci sono due aspetti fondamentali perché il manettino controllerà il carburante inserito da all'interno dei cilindri quindi la pressione all'interno dei cilindri mentre ci servirà assegnare un altro asse alla al passo dell'elica questo entrerò meglio nel dettaglio cioè che andrà a regolare i giri che l'elica è in grado di fare in funzione del suo passo cioè di quanto sono inclinate le pale rispetto al flusso dell'aria che le investe per dirla in maniera semplice è un po' come se potessimo modificare il numero di anelli di una vite e il numero di percorso che la vita può fare con un giro engine rpm settings è il valore che dovremo andare a assegnare a un asse che avremo sulla manetta se non abbiamo quest'asse possiamo assegnarlo a un tasto nel nei controlli normali però è fondamentale farlo perché il tf 51 come tutti gli aeroplani americani ha il passo manuale mentre invece i tedeschi all'epoca erano più furbi e ce l'avevano automatico poi fatto questo ci serve andare nei tutti tutti gli altri assegnazioni che siano a tasti a tasti e andare a configurare i tasti principali per quanto riguarda il tf 51 non è armato quindi come detto prima non ci servono grossi grosse assegnazioni però le le assegnazioni fondamentali sono sicuramente quelle del trim in particolare il trim up and down elevator up and down che conviene come nella realtà assegnare un pov soprattutto sulla cloche dopodiché ci serve assegnare lo zoom su un pov sempre avanti e indietro se non vogliamo utilizzare uno slide e basta molte altre cose in realtà sono assegnazioni da tastiera che possiamo anche riportare su joystick se abbiamo abbastanza tasti in particolare flaps up and down o carrelli landing gear io come mia filosofia personale non assegno mai il landing gear sul joystick o sulla manetta semplicemente perché nella realtà il la leva del carrello è separata dalla joystick e dalla manetta è proprio su un pezzo a parte che il pilota deve sollevare le mani della manetta e andare ad azionare la leva allo stesso modo io vado a premere un tasto sulla tastiera in questo modo evito di ripremerla accidentalmente perché può possono rovinarsi possono distruggersi se se estratti ad alta velocità quindi evito questo tipo di di problema allo stesso modo non serve che lo dica andare a un bail out un contro le che serve per lanciarsi fuori dall'abitacolo col paracadute non dovrà mai essere mai essere assegnato al joystick perché non va premuto neanche per sbaglio basta non ci sono altri tasti particolari poi chiaramente uno può personalizzarsi i comandi come vuole in dcs può andare a settarsi le luci il radio può andarsi a settare tutti gli strumenti la lista è abbastanza lunga anche su un aereo estremamente semplice come un tf 51 queste sono tutte le assegnazioni che possono essere configurato comunque fatti trim lo zoom e controllati gli assi teoria siamo pronti per il decollo e non ci serve altro un breve panoramica delle altre assegnazioni che sono importanti da fare in dcs prima di volare andiamo nella pagina gameplay e qui andiamo a configurare difficulties che il livello di difficoltà di simulazione dcs chiaramente offre un'esperienza full immersion volendo oppure dalla possibilità di avere parecchi aiuti per le persone insomma che hanno bisogno di fare un po di training basico quello che consiglio io è di iniziare subito col full full realism perché in questo modo ci abituiamo subito e andiamo subito nella verso la strada giusta non serve avere gli aiuti più di tanto il game flight mode in poche parole è acceso ci dà una versione semplificata dei modelli di volo per cui andiamo a tagliare tutte le esperienze possibili che un modello di volo complesso può regalarci radio assist anche questo è un modello semplificato che non prevede il cliccaggio della radio delle frequenze tool tips può essere utile può essere utile perché semplicemente muovendo il mouse all'interno del cockpit se lo possiamo possiamo il puntatore su uno strumento ci dirà che che strumento è il nome dello strumento e quindi possiamo andare a confrontarlo con il manuale per esempio crash auto recovery semplicemente ci fa respawnare se la missione lo prevede su un altro plano nel momento in cui cresciamo easy communication funzione in maniera simile alla radio padlock anche questo è un po un arcade perché fa con la pressione di un tasto ci fa alloccare un bandit unlimited fuel non serve che vi sto a raccontare cos'è così come weapons immortal lo stesso modo semplicemente impedisce che l'aeroplano esploda nel momento in cui si schianti con il terreno e quant'altro unrestricted sat nav l'unica voce che serve accesa tool tips e crash auto recovery unrestricted sat nav non riguarda tf 51 ma tutti i moduli che hanno un sistema gps è un sistema di allineamento richiesto che prevede che prevede l'allineamento gps un po complicato da dire però funziona più o meno così per cui se la missione per esempio non ha un sistema gps questo rende il sistema di allineamento un po più complicato f10 view options non serve toccare nulla mirrors acceso f10 map user marks può essere utilizzato allora qui e poi abbiamo mini hud non serve può essere utile di flaming cliffs quindi non c'entra col tf 51 hide control stick quando è acceso fa sparire la cloche dalla visuale wake turbulence consiglio di tenerlo spento questo in poche parole implementa le turbolenze di scia all'interno di dcs il che non sarebbe male dal punto di vista della fisica di volo perché quello che cerchiamo cerchiamo in massimo realismo però non sono ben in implementate per cui avremo degli effetti esagerati cosa che in realtà non avviene nella realtà la turbolenze di scia esiste quando entrano in gioco aeroplani pesanti io non voglio essere travolto da una turbolenze di scia se davanti a me c'è un piccolo aeroplano insomma questo è il discorso quindi si può tranquillamente disabilitare in questa parte destra della schermata è importante switchare editor icon style to russia semplicemente perché il sistema sovietico di visualizzazione dell'editor è molto più di immediata lettura avionics language english units imperial g effect simulations no labels and beers va zero queste impostazioni sono ottimali per la visualizzazione degli strumenti in base all'aeroplano che andiamo a utilizzare chiaramente se dovessimo volare su un aereo russo conviene avere il sistema metrico non consiglio di switchare il sistema metrico su un aeroplano americano o nato perché nativamente l'aeroplano ha tutti gli strumenti in imperiale allora miscellaneus questa è una pagina di riferimento le coordinate display conviene settarlo in lat long decimal minutes che è un po' la lettura standard basta non c'è molto altro qui da sistemare nella pagina audio consiglio di utilizzare queste impostazioni perché sono anche queste sono ottimali per avere un feedback ideale guai e word meglio portarli a zero se possibile in coca al massimo in cockpit intorno al 55 per cento 50 per cento music a zero se non l'avete già fatto annoiati una volta lanciato il primo menu principale gli switches conviene portarlo al massimo se non a 200 come ce l'ho io e basta poi altre cose here like an helmet va spento perché da noia cioè crea un effetto distorsione G-breed effect acceso loud cockpit afterburner sound acceso chiaramente TF51 non ha l'afterburner ma questo può essere molto utile qualora lo aveste su un aeroplano come un F16 o quant'altro vi fa sentire molto più chiaramente il suono del post bruciatore altre impostazioni non servono qui assicuratevi che i device siano quelli del vostro computer ok basta allora special non ci interessa ci sono alcune voci relative al TF51 take off assistance lasciato da zero come dicevo prima è importante imparare subito con il massimo realismo l'autoradder se non avete un joystick con il timone con l'asse per il timone inseritelo perché dovrete usare i tasti altrimenti basta questo è quanto all'ok se vi chiede di riavviare fatelo allora fatto questo come possiamo utilizzare il TF51 allora prima cosa da fare se volete potete andare in instant action selezionare il TF51 e vedere un cold start più o meno questo è quello che fanno tutti in questo tipo di missioni credo che ci sia anche una voce che vi fa una guida all'interno del cockpit e vi spiega cosa fare passo per passo la apro giusto un attimo per vedere di cosa si tratta in realtà quello che volevo mostrarvi è creare ad hoc in maniera molto veloce una missione personalizzata che vi consente di di crearvi un piano di volo su un aeroporto desiderato magari con una destinazione con questa schermata premiamo fly abbiamo una breve review della missione con il task che dice flight situation flight from Krinsk nessun pericolo poi abbiamo il weather con la temperatura che è i 20 gradi il QNH che è appunto la pressione al suolo clouds cover la base delle nuvole a 2500 piedi e poi abbiamo il vento quindi al suolo di 3 metri al secondo con 56 gradi di provenienza 056 dovrebbe essere nessuna turbolenza qui abbiamo alcune frequenze perché sono le frequenze degli aeroporti e basta possiamo andare a premere fly quindi ci troviamo all'interno dell'abitacolo del TF51 né più né meno e da qui possiamo iniziare la nostra Ramstart allora prima di iniziare però volevo darvi qualche dritta su per quanto riguarda DCS allora DCS offre all'interno all'interno della cartella DCS potremo andare a trovare tutti i documenti necessari apro questa schermata in questo modo possiamo andare a vedere nell'hard disk dove avremo installato DCS che in generale è C salvo diverse diciamo preferenze consiglio ovviamente di avere un SSD perché altrimenti DCS gira piuttosto male in genere nella cartella programmi che sarà sia C o D o quello che è non fa differenza troveremo programmi Eagle Dynamics e aperto Eagle Dynamics ci troveremo due cartelle DCS Word e DCS Open Beta spero che abbiate installato l'Open Beta perché sarà quella che ci interessa all'interno di DCS Open Beta troviamo le cartelle di DCS andiamo a scorrere verso il basso ci serve entrare nella cartella Mods Aircraft qui andiamo a selezionare il TF51 che è appunto l'aeroplano che abbiamo nativamente gratuito e all'interno della cartella TF51 troviamo la cartella Dock qui abbiamo la Quick Start Guide la guida allo start che in poche parole ci spiega più o meno quello che ho detto fino adesso e poi abbiamo il Flight Manual il Flight Manual è molto interessante perché senza esagerare lo seleziono non è più nemmeno che il manuale reale del P51 Mustang cioè non è molto diverso da un vero manuale di volo dell'aeroplano dove avremo un'introduzione a cosa è la macchina perché è stata costruita le sue specifiche tecniche le sue varianti e poi in generale si andrà a dedicare a tutto quello che è la spiegazione dell'abitacolo dei tasti degli strumenti di come fare una RAM Start perché al contrario di quello che si pensi anche il TF51 seppur è semplice con pochi tasti un aereo vecchio è elica comunque è un aeroplano assolutamente procedurale che richiede di essere trattato di conseguenza quindi rispettare i suoi parametri altrimenti l'aeroplano non funzionerà o andremo incontro a delle rotture in fase di decollo nel peggiore dei casi quindi andando a spulciare un pochino il manuale vediamo una descrizione degli strumenti pezzo per pezzo questo manuale è molto interessante e chiaramente prima di decollare sarebbe bello dargli una lettura anche per capire di cosa si sta parlando quello che andiamo a fare oggi comunque è un decollo veloce per andare a vedere di cosa si tratta allora torniamo al menu perché voglio andare a mostrarvi come creare una missione ad hoc quindi col meteo fare un piano di volo la prima cosa da fare è quindi andare in mission editor andando qui creeremo una nuova missione selezioniamo quindi il caucaso che sarà la mappa che abbiamo di default qui possiamo selezionare le fazioni e quant'altro diciamo ci interessa relativamente dal momento che non siamo armati aspettiamo il caricamento del caucaso questa è la mappa possiamo zoomare avanti e indietro ecco il tasto destro del mouse trascinare la mappa del caucaso comprende uno scenario dettagliato da Anapa da questa linea fino a sud di Tbilisi con tutta la catena montuosa prima della Turchia quindi questa area è ben implementata la Crimea l'Ucraina purtroppo non sono ben ben implementate non c'è niente lì che ci possa interessare cosa utile da sapere che lo scenario geopolitico del caucaso è fedele storicamente per cui per esempio fino a soci fino a questa linea soci Gudauta Sokumi Senaki Kutaisi Tbilisi tutti questi aeroporti essendo parte a partire da soci della Nato quindi la confederazione di soci la regione è entrata a far parte della Nato Gudauta Skumi tutta quest'area sud del caucaso è diciamo fa parte del sistema Nato questi aeroporti hanno un sistema VOR ILS con frequenze quindi hanno tutti i sistemi di ausilio alla navigazione strumentale e che può essere divertente anche col TF51 mentre per quanto riguarda gli aeroporti a nord essendo russi hanno un loro sistema e non hanno Takan il più delle volte il 99% dei casi non hanno Takan quindi per zoomare andiamo a selezionare un aeroporto che ci può essere utile che per esempio può essere Kobuleti ci zoomiamo e qui come una mappa possiamo vederla satellitare o General Charts qui vediamo le carte come nell'aviazione civile abbiamo la visuale satellitare o altimetrica credo che si dica così possiamo zoomare andiamo a vedere la pista con l'apron principale e le aree parcheggio cosa possiamo fare quindi qui a sinistra abbiamo il simbolo aeroplanini elicotteri navi carri armati eccetera andiamo a selezionare aeroplani selezioniamo in type TF51 lo vediamo in giallo perché è disponibile e quello è installato andiamo a selezionare client la differenza è potremmo selezionare client o player no non c'è player più l'hanno tolto non capisco perché la differenza è che selezionando player una volta lanciata la missione entreremo in quell'aeroplano direttamente se è client invece l'aeroplano sarà disponibile in una lista se mettiamo più aeroplani potremo selezionarlo quindi fatto questo quindi selezionato TF51 e client lo posizioniamo per esempio lo posizioniamo qua e verrà generato sulla mappa a questo punto ecco infatti posizionato appare la voce player come dicevo quindi player o client lasciamo client scorrendo in base qui ci sono alcune impostazioni con il numero di coda col signs col signs è come ci chiamerà la radio della torre per esempio con un nome possiamo mettere non so colt mi piace colt dopodiché altre impostazioni non ci interessano però in questa schermata possiamo andare a mettere che tipo di spawn andiamo a scegliere nel momento in cui selezioniamo l'aeroplano se sarà turning point ci troveremo in volo in poche parole sopra questo punto a 6500 piedi a 240 nodi fly over point non è diverso sono due differenze minime take off from runway ci selezionerà una pista a caso non so quale al momento quindi col motore acceso take off from ramp selezionerà un parcheggio il park in questo caso sarà il 17 mettiamo a caso che non voglio il 17 ma voglio non so l'1 posso cambiarlo da qui e mi porterà mi inventerà l'aeroplano al parcheggio 1 oppure from parking hot from ground insomma sono diverse variazioni sullo stesso tema la differenza è che in alcuni casi l'aeroplano sarà già acceso mentre per quanto riguarda parking from ramp sarà la configurazione che ci permetterà di fare una ramp start quindi di accendere l'aeroplano dal parcheggio desiderato in questa schermata quindi selezioniamo abbiamo quattro schede la prima è il tipo di waypoint il tipo di start da qui possiamo anche aggiungere waypoint waypoint facendo add ne ho selezionato uno posso selezionare un altro quanti ne voglio in realtà però questo non serve più di tanto perché l'aeroplano non ha niente che ci aiuti a fare una navigazione tra waypoint e waypoint quindi non serve basta soltanto mettere l'aeroplano con take off from ramp seconda scheda andiamo possiamo modificare qualcosa del tipo per esempio la skill la skin ce ne sono uno due tre quattro cinque sei a disposizione andiamo a mettere queste questa è più bella possiamo cambiare il carburante interno conviene lasciarlo al massimo non cambia più di tanto facendo le dovute accezioni perché il tf 51 ha i serbatoi alari quindi fate attenzione al bilanciamento dell'aeroplano nella schermata ok basta questo è quello che ci interessa allora quindi abbiamo il nostro aeroplano take off from ramp e andiamo a salvare la missione anzi cosa molto figa che consiglio di fare sempre andiamo a cambiare il meteo il meteo si cambia da questa iconcina qui miscellaneous date time e whatever qui dcs ci da un'infinita varia possibilità di modifica possiamo andare a utilizzare dei preset oppure possiamo creare un meteo statico con tanti valori diversi che vanno dalla temperatura a direzione del vento in base alle quote turbolenze fog eccetera eccetera è uno strumento molto complesso se non addirittura un meteo dinamico il meteo dinamico è una figata perché cambia in funzione della temperatura dell'irraggiamento solare e del vento quindi si possono creare dei veri e propri sistemi iperrealistici di bassa pressione alta pressione ciclone anticiclone con addirittura delle celle che si intersecano e generano turbolenze su turbolenze tutto ciò diciamo è bello interessante ma lo vedremo un'altra volta perché parlare del meteo non si finisce più andiamo a selezionare non so un scatteret 7 giusto così per gradire perché è bello vedere qualche nuvoletta e basta e siamo pronti nel volo che andremo a fare per esempio simuliamo un trasferimento di volo a vista fra copuleti e senachi quindi file save us e selezioniamo test tf51 giusto per gradire e salviamo in questo modo la missione sarà salvata e sarà nelle cartelle delle missioni di gioco per poterla volare abbiamo due possibilità possiamo selezionare flight quindi fly mission lancerà direttamente con uno shortcut la missione oppure andiamo a fare exit multiplayer new server new server non importa se abbiamo se vogliamo ospitare la missione o meno qui possiamo selezionare il server name la password quello che è andiamo ad aggiungere la missione quindi tf51 dalla cartella in cui sono presenti tutte le missioni e possiamo lanciarla quindi la lanciamo come se fossimo un host ok questo è giusto per farlo vedere torniamo quindi in mission editor selezioniamo facciamo open apriamo test tf51 e facciamo fly allora come dicevo prima dal momento in cui abbiamo selezionato client sull'iconcina del nostro aeroplano possiamo selezionarlo in una lista se ce ne fossero di più di aeroplani come client li vedremo quindi in teoria se abbiamo amici e vogliamo fare un volo informazione basterà mettere 3, 4 tf51 client e lanciata la missione tutti vedranno gli slot tf51 disponibili e potranno selezionarlo come ho fatto io clicchiamo ok e ci troviamo immediatamente all'interno del cockpit queste informazioni sono le informazioni generate nel momento in cui abbiamo creato la missione non ci sono informazioni aggiuntive perché non le ho inserite però per esempio il weather è quello generato dal preset che ho selezionato le frequenze sono quelle di copoletti e QFE allo stesso modo una volta in cockpit adesso io ho anche il trackier quindi mi basta muovere la testa per guardarmi attorno col VR è la stessa cosa una volta in cockpit ci troveremo ai comandi del favoloso tf51 Mustang questo aeroplano ha una storia molto importante nella seconda guerra mondiale fu costruito in tempi lampo ed è il frutto di una collaborazione straordinaria fra America e Inghilterra in poche parole gli americani costruirono la cellula dell'aeroplano con degli studi avanzati di aerodinamica andando a implementare un'ala a flusso laminare che era molto efficiente ad alte velocità e consentiva un'ampia autonomia all'aeroplano dall'altra parte dell'oceano gli inglesi invece fornirono il motore Rolls Royce Merlin che era equipaggiato sullo Spitfire 9 chiaramente gli americani lo costruirono su licenza e produssero questo motore che era in grado di sviluppare 1700 cavalli 1700 cavalli quindi mettetevi in conto che l'esperienza in DCS con questo aeroplano non è una passeggiata con un cesnino di Flight Simulator cioè il cesnino di Flight Simulator è un giocattolo in confronto a un TF-51 il TF-51 è un mostro di potenza pensato per fare la guerra cioè un aeroplano militare non era né più né meno dell'equivalente di un F-16 o un F-15 dell'epoca pensato per scortare i bombardieri sopra l'Europa o nel teatro del Pacifico il suo ruolo primario era quello ma ha fatto anche attacco al suolo quindi mettiamo in conto che sarà un aeroplano piuttosto brusco e che non ci darà vita facile non a caso si chiama Mustang cioè cavallo selvaggio i 1700 cavalli si faranno sentire soprattutto in fase di decollo e ce ne accorgeremo quindi per tornare nel cockpit che cosa abbiamo in realtà è un cockpit molto semplice non ha niente di che il quadro strumenti analogico è abbastanza essenziale con la girobussola che ci permette di fare pianificazioni di rotta o utilizzare eventualmente il 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 modo molto semplicistico andando a settarsi le frequenze del TACAN il S da qui con il detrola allo stesso modo la girobussola ci da ci possono dare delle indicazioni sonore della nostra posizione rispetto all'emettitore il S poi abbiamo l'orologio per la navigazione strumentale stimata qui abbiamo l'anemometro l'altimetro pallina e paletta o detto anche virus bandometro poi abbiamo il variometro insomma è l'orizzonte artificiale in questa sezione insomma abbiamo tutto quello che ci serve per il volo con un aeroplano strumenti fondamentali nella zona destra tutto il quadro che riguarda la gestione delle temperature di olio acqua e motore in poche parole gli strumenti essenziali che dovremo continuamente monitorare saranno la main fold pressure che sarà come ho detto prima la pressione all'interno dei cilindri e i giri RPM dell'elica ok non scoraggiatevi se pensate che questo sia di difficile lettura in realtà non serve più di tanto guardare i numeri un'indicazione molto semplice è seguire il cosiddetto arco verde cioè se noi manteniamo le lancette all'interno della zona verde sappiamo che stiamo operando in sicurezza nei parametri suggeriti dal costruttore in particolare lo strumento principale per la nostra sicurezza per mantenere l'aeroplano in volo assolutamente l'RPM l'RPM ha l'arco verde e ha una tacca rossa cosa significa che se andremo oltre questa tacca con la nostra lancetta sarà matematico che distruggeremo il motore perché il motore è progettato per supportare un certo numero di giri se superiamo questi giri letteralmente sbiegliamo e fracassiamo il motore quindi come facciamo a regolare questo strumento l'abbiamo detto prima con la famosa RPM settings che è questo pomello nero che sto modificando l'ho fatto con un asse può essere assegnato anche dei tasti se non abbiamo un asse aggiuntivo sulla cloche questo è fondamentale perché con questo noi regoliamo il passo dell'elica cioè in modo in cui l'elica letteralmente morde l'aria se lo cambio dovrebbe no perché non c'è pressione comunque è importantissimo e va regolato in fase di decollo in fase di atterraggio e durante il volo in base alle circostanze e all'assetto di volo e alla velocità quindi questo è l'unico accorgimento a cui dobbiamo fare attenzione altra cosa che è importante sapere è che aspettate i capelli non so se gli ultracchiere ok ora va meglio ok altra cosa che è importante sapere è l'utilizzo dei freni che non vi ho fatto non ne ho parlato prima ma adjust controls i freni sono importantissimi non si parla di freni come nella macchina nell'automobile io in questo modo io li ho assegnati alla pedaliera possono essere assegnati a un asse bisogna considerare che però non sono non c'ha l'ABS il TF51 non ha l'antiskid come si direbbe sugli aeroplani moderni per cui la pressione dei freni deve essere molto dolce e delicata e se non avete una pedaliera o un asse per gestirli e dovete usare per forza un tasto il mio consiglio è di premere i tasti a tocchetti cioè non tenerli premuti perché cosa succede per la natura di questo carrello che è un carrello triciclico tradizionale e cosa succede questa configurazione è creata per proteggere il disco dell'elica per cui l'aeroplano a terra ha un assetto cabrato se noi andiamo a premere i freni troppo bruscamente l'aeroplano si impenna e andiamo a distruggere l'elica e questo assolutamente non è divertente bene fatto questo iniziamo con la Ram Start allora innanzitutto anzi finisco la panoramica del cockpit giusto per capirci davanti alla cloche quello che ci interessa qui sono i magneti a sinistra del pannello con i magneti cockpit lights qualora fossimo di notte non ci interessa a sinistra abbiamo il pannello che ci aiuterà nell'accensione del motore dove avremo supercharger che in realtà è automatico e va lasciato così fuel booster che attiva la pompa del carburante o il dual diluit che serve a fare entrare l'olio nel circuito del motore il primer che serve a dare una sorta per chi conosce le macchine diesel le macchine diesel di una volta prima di accenderle bisognava aspettare la spia delle candelette che si spegnesse il primer fa esattamente la stessa cosa va a preriscaldare non le candelette ma oddio non mi viene il nome le puntine platinate che servono per accendere il carburante all'interno dei cilindri quindi fatto questo questo lo starter è il pulsante di accensione del motore andremo a vedere poi come funziona sulla sinistra abbiamo la manetta cioè che regola come abbiamo detto la pressione il carburante che iniettiamo all'interno dei cilindri poi abbiamo il passo dell'elica qui abbiamo il mixture control select che ha tre posizioni idle cut idle cutoff run emergency questo è un po' pomellino che in poche parole taglia o fornisce apre il circuito del carburante all'interno del del motore sulla sinistra abbiamo questi questi bottoni che servono ad aprire i pannelli dei radiatori dell'olio e dell'acqua questi pomelli neri sono i trim adesso per esempio andando ad azionare il trim dell'elevatore vedete che si muove quindi di default per quanto riguarda il ricollo conviene portarlo a uno come vedete anche la guida ci mostra che conviene portarlo a uno 0,1 1 scusate qui sulla sinistra queste leve aprono il carburatore il il pannellino dell'aria e questo pomello giallo è il pomello dei flaps al centro davanti alla cloche abbiamo il selettore del di dove viene pescato il carburante del rubinetto letteralmente per chi ha mai avuto un ciao o un motorino con questo selettore è molto simile cioè in poche parole va a pescare fra i due serbatoi disponibili il TF 51 ha solo due serbatoi alari quindi si può pescare nell'ala destra o nell'ala sinistra gli indicatori di carburanti sono esattamente sotto le ginocchia del pilota quindi abbiamo carburante a sinistra e il livello carburante a destra nell'aeroplano nel TF nel P51 poi c'è anche il carburante centrale che può essere monitorato da questa posizione qui non c'è perché in teoria questo è un aeroplano bi posto cioè hanno ricavato dove c'era naturalmente il serbatoio del carburante e altri sistemi radio hanno ricavato un secondo sedile per un passeggero è un gran peccato che questa funzione non sia disponibile in DCS perché potrebbe fare la differenza sulla destra i selettori dell'elettronica della radio e del Detrola che serve appunto per la navigazione ILS questo è quanto questo è l'aeroplano non è molto ripieno di bottoni come un aereo moderno chiaramente ok iniziamo la Ram Start allora prima cosa da fare portare su i selettori di elettronica che attivano pompe carburante e circuiti elettrici sentiremo un suono tipico dell'elettronica a partire poi andiamo a portare Fuel Shutoff su On alzo un po' il volume perché così possiamo sentire meglio l'aeroplano ecco i magneti vanno portati su Bot quindi entrambi per sicurezza è un sistema ridondante quindi ce ne sono due nel caso uno non funzionasse basta passo dell'elica possiamo tenerlo al minimo per l'accensione ma cambia poco sblocchiamo sblocchiamo l'orizzonte artificiale e e basta la prima cosa da fare è attivare la pompa carburante con il primer lo portiamo su e aspettiamo 5-6 secondi allora il passo successivo è accendere il motore però in realtà come ho detto prima al momento il pommellino del mixture control al momento è su cut off quindi anche se accendessimo il motore se non c'è carburante nel circuito se non gira il carburante nel circuito il motore non parte la procedura quindi andremo a premere il pulsante start aspetteremo che l'elica prenda abbrivio che il motore inizia a girare e la mixture dovremo switchare di due posizioni quindi da cut off la porteremo su rig e run quindi i passaggi sono tre starter aspettiamo che l'elica giri e la mixture da cut off a rig a run ci proviamo di nuovo un altro colpettino di prime starter e il motore è acceso a questo punto che il motore è acceso dovremo aprire i radiatori dell'olio e dell'acqua e lo possiamo fare da qui premendo il cockpit o con l'assegnazione tasti che sono alt di sinistra a ed s come come vedete dietro la coda si sta aprendo il pannello che è quello che è lo sfiato di uscita del radiotore questo va fatto soprattutto a terra perché ci permette un raffreddamento ottimale nel motore ok niente fatto questo siamo pronti per la taxi non c'è molto altro da dire quindi possiamo tirare sui flaps per quanto riguarda il decollo non è necessario utilizzare i flaps si utilizzeranno solo in atterraggio l'utilizzo dei flaps in genere si poteva utilizzare una tacca solo nel caso in cui l'aeroplano fosse armato con bombe o razzi e possiamo chiudere anche il tettuccio ruotando la rotellina del mouse alla manovella associata bene allora piccolo trucchetto come molti aeroplani del tempo avevano un sistema che consentiva il blocco del ruotino posteriore tirando la cloche indietro la cloche indietro è una cosa normale sugli aeroplani a elica soprattutto quelli con carrello tradizionale perché si evita che le superfili elevatori tocchino terra o l'erba non si vuole sono strutture delicate quindi cabrare è normale in fase di taxi con questo sistema quindi cabrando a terra blocchiamo il ruotino posteriore mentre se non lo facciamo il ruotino sarà libero e il comportamento dell'aeroplano sarà quello di un carrello della spesa questo ci tornerà utile quando vogliamo girare ma se vogliamo andare dritti assolutamente no bisogna cabrare quindi portiamo l'rpm al massimo l'rpm al massimo va portato rigorosamente a terra e in fase di decollo e di atterraggio ci avviamo piano piano alla pista qui che sono sulla taxi tiro indietro la cloche così posso andare dritto prendo il primo raccordo e provo a entrare in pista controlliamo che non ci sia nessuno ovviamente non c'è perché sono single player e non ho messo altri aerei in giro allora una volta allineati facciamo un attimo il punto della situazione perché come sempre prima di fare ogni volo bisogna sempre studiare un briefing per sapere cosa bisognerà fare non si può decollare alla sprovveduta così quindi il nostro aeroplano al momento si trova sulla pista di coboleti e dopo il decollo vogliamo andare a destra e vorremmo andare ad atterrare a Senaki quindi con questo strumento ci permette di misurare la distanza e vedere la rotta fra noi e Senaki la distanza è di 20 miglia per 0,17 però siccome noi vogliamo allinearci per la pista 0,9 di Senaki con l'ILS non credo che funzioni perché non l'ho impostato cosa faremo dopo il decollo vireremo a destra verso nord ovest per sorvolare la città di Poti con il suo lago e dopodiché una volta raggiunto il lago di Poti raccorderemo verso destra per allinearci con Senaki e fare un atterraggio su Senaki questo è il nostro piano di volo se dobbiamo considerare il TF-51 nella sua interezza e quello che possiamo farci all'interno di DCS chiaramente non possiamo aspettarci di sparare o di utilizzarlo in combattimento però non così cioè le cose si possono fare è sicuramente un aeroplano interessante che ci permette di imparare a volare con un aereo a elica molto di più di un cesnino di Flight Simulator se posso dirlo perché veramente impariamo il comportamento brutale di un aereo con tanti cavalli e la gestione dell'effetto torcente dell'edica la gestione del motore di tutti i parametri e il rispetto delle procedure necessarie per l'aeroplano quindi è assolutamente un aeroplano procedurale possiamo fare navigazione a vista o stimata in maniera assolutamente accurata utilizzando la mappa del caucaso con degli amici o mettendo delle AI in giro possiamo tranquillamente utilizzarlo per il volo in formazione ci sono addirittura delle pattuglie acrobatiche che lo utilizzano in DCS e possiamo fare delle AI race come quelle che vengono fatte in America mettendo i piloni in giro si possono fare delle AI race da soli o con gli amici si può usare anche in teoria in missione perché alcuni server lo adottano come delivery plane nel senso che lo possiamo possiamo decollare da una base per portare dei aiuti rifornimenti o repair in giro per la mappa dove è richiesto in questo caso quindi sarà necessario avere anche esperienza di atterraggio fuori pista questo è quanto può essere utilizzato come aereo per ricognizioni BDA o trasporto insomma in generale ok siamo pronti barra indietro per il decollo passo dell'elica al massimo da procedura si porta il motore leggermente a regime lo si fa salire di giri dolcemente e si aspetta non si devono usare i freni medio di no ma il timone per aggiustare l'effetto torcente continuiamo a tirare indietro la cloche fino a quando prendiamo velocità e si solleva la coda dell'aeroplano e l'aeroplano decollerà praticamente da solo 110 nodi possiamo tirare sul carrello in C riduciamo il passo dell'elica a questo punto lo portiamo in arco verde e giusto per gradire però già ci troviamo nel nostro elemento a 170 nodi l'aeroplano era molto veloce 240 nodi e la sua normale velocità di crociera quindi di là abbiamo il mare lo utilizziamo come riferimento per procedere verso nord-ovest trimmiamo la lancettina bianca piena è il nostro heading che funziona solo se abbiamo l'aereo livellato altrimenti sbarella quindi al momento abbiamo un heading di 300 i parametri sono in arco verde l'olio è un filino troppo caldo ma va bene finché c'è velocità entra aria nel circuito questo parametro dell'olio vuol dire che sto un po' esagerando col main fall pressure posso ridurre e lo faccio ovviamente siccome sto pescando dal serbatoio di sinistra alla lunga il serbatoio di sinistra si consumerà e avrò un aereo sbilanciato verso sinistra mi converrà e switchare il serbatoio destro se non voglio usare il trim dell'ailerone ovviamente possiamo creare missioni ad hoc con meteo assurdi temporali zero visibilità la sfida la creiamo noi la nostra skill aumenta possiamo addestrarci al volo a vista a riconoscere i punti di navigazione preprogrammati le applicazioni sono infinite e DCS è uno strumento didattico che ci insegna a volare realmente un TF51 reale è così non è diverso da questo a parte la paura che si proverebbe nel pilotarlo in teoria potremmo sapere esattamente quello che c'è da fare dentro il cockpit questa è la città di poti 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 e lì a destra abbiamo Senaki di potere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, Poti è 108.9. Dovrebbe essere il doppio, quindi... 200 qualcosa, 210 qualcosa. Credo che PAD vada impostato da Mission Editor. Ah, eccolo. Sì, no, un momento. 3 minuti. Il 09 è il curso. E noi ci allineiamo con la pista. Il suono dovrebbe cambiare al momento in cui suono esattamente sulla radiale. Un dip lungo se siamo a destra, un dip corto se sono a sinistra e un dip molto lungo, quasi continuo, se sono giusto. Ok. Pista Euro 12. La configurazione per l'atterraggio sarà full RPM, full flaps. Il touchdown sarà intorno ai 90 nodi. Dovremmo far scalare la velocità. Iniziamo già a rallentare. 200 nodi ancora presto per i flaps, rischieremo di romperli. Aumento gli RPM perché faranno anche l'elica FAD da resistenza aerodinamica. Una tacca di flaps. 150 nodi, full flaps. Carrello giù. Full RPM. E gestiamo la velocità per l'avvicinamento. Lo stream, correggiamo. Per evitare di fare troppe correzioni, solo il trim e la manetta. L'aeroplano si controlla col motore e un filo di cloche, movimenti millimetrici. 100 nodi sono un filo lento, aumento la velocità. Indico il motore assistito. Siamo quasi sulla soglia a pista. Riduciamo velocemente. Iniziamo la flare. Riduco. Faccio scalare la velocità. Closh dietro. E touchdown su tre punti. Lasciamo correre. Cercando di non toccare i freni in questa fase perché sarebbe molto pericoloso. Quando la velocità è scaduta abbastanza diamo dei piccoli colpetti di freni per frenare. E questo è quanto. Liberiamo la pista. E niente, spero che questo video sia utile. Ci becchiamo alla prossima. E' un'altra cosa.